sono proprio contenta di avere qui con noi iperturbazione siamo vicini vicini ragazzi complimenti davvero tutta mattina tutto il giorno che da quando abbiamo sentito il vostro pezzo iniziamo erika insomma rimane in testa poverete quelle che si chiamano erika perché tipo mi chiamo gigi ero tartassato da gigi e la cremeria quindi poveracce siamo anche gigi latrotto anche 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 amoroso è vero com'è andata l'emozione prima volta all'ariston ma personalmente pensavo peggio pensavo molto peggio invece la grinta la voglia di spaccare tutto ha vinto anche perché avete un maestro d'orchestra andrea mirò che è coinvolgente quanto voi sul palco assolutamente un cararmato e una sicurezza tra le due canzoni siete contenti di questo esito oppure siamo divisi all'interno insomma siamo tanti pluralità di opinioni e 15 anni che siete sulla scena indipendente che fate musica insieme sei anni che tentate di entrare al festival di sanremo e questa canzone quando è nata come è nata in realtà la canzone nasce circa due anni fa ed era una canzone che volevamo inserire all'interno del nostro disco che uscì poi ad aprile di questa del 2013 e avevamo delle remore su questo su questa canzone perché avevamo la paura che fosse un pochettino fraintesa visto che c'è una galleria di personaggi femminili anche se al ritornello in realtà è riflessivo ma poi finisce che l'attenzione viene colta viene viene catturata più da questa galleria femminile e quindi sembrava di fare una canzone un po macista per dire anche se non era assolutamente il nostro intento per cui l'abbiamo messa da parte ma in fondo a tutti dispiaceva che non fosse finita sul disco ed è stato un bene perché quando l'abbiamo presentato al festival ha funzionato sì perché poi avete fatto una nuova riedizione del vostro album che è musica x con all'interno proprio queste due canzoni sanremesi ma ci sono tantissime collaborazioni in questo album da luca carboni ad erica mu sì addirittura i cani che sono una band romana purtroppo ancora poco conosciuta ma secondo me prima o poi potranno far sentire perché sono molto bravi e l'idea di questo disco era quello di provare un attimino a misurarci con una componente elettronica più forte che era già presente nei dischi precedenti ma provare anche a togliere questo velo di tristezza che da sempre ammantava la nostra presenza in fondo noi eravamo molto bravi lo siamo credo tuttora a comporre delle canzoni che siano riflessive che facciano riflettere però poi il light motif alla fine dei nostri concerti era bravi mi avete fatto piangere allora avevamo due strade o fare dei dischi con dentro un pacchetto di kleenex o provare per risparmiare fare un disco invece un po più allegro e a proposito invece di allegria avete definito sanremo un oasi felice in mezzo alla tempesta perché sì perché in effetti questo è un periodo abbastanza duro per tutti duro per tutti e adesso non vorrei tirarmi ad assalire delle altre categorie ma ma soprattutto per i musicisti perché la prima cosa che viene tagliata in italia quando ci mancano i fondi sono la cultura e la musica viene riconosciuta nemmeno tutte le volte all'interno della categoria cultura per cui noi abbiamo avuto l'enorme fortuna di finire all'interno di questo festival di sanremo se non fosse successo probabilmente saremo a domandarci e a lamentarci come facciamo di solito sul fatto che c'è poco spazio in italia per la musica e quindi non vorremmo dimenticarci del fatto che ad un certo punto per noi si è aperta una porta laterale una slide indoors siamo finiti al festival perché se non fosse successo saremmo rimasti quelli quelli di sempre non da un punto di vista emotivo e che adesso ci siamo gasati ma dal punto di vista della difficoltà quotidiana di avere a che fare con un mondo come quello musicale invece per quel che riguarda sanremo questo giro continuo di interviste di essere sotto riflettori oltre che essere sul palco come la state vivendo senti come siamo spigliati meravigliosi adesso posso farti un trattato di botanica parliamo della serata invece di venerdì sarete sul palco con un ospite meravigliosa viola assolutamente un ospite veramente fantastica una ragazza molto bella e forse non tutti sanno anche una cantante molto molto brava come è andata durante le prove vi siete trovati subito in sintonia ma devo dire sì 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 assolutamente siamo rimasti colpiti molto in maniera molto positiva perché lei comunque è arrivata subito pronta subito preparata grande veramente grande il giorno dopo quando l'abbiamo sentita l'ha detto sono a parigi abbiamo pensato che fosse scappata subito invece era a parigi per degli appuntamenti legati al cinema quindi tra quello e poi la maternità di viola violante placido per chi non la conoscesse nell'ambito musicale si fa chiamare così e quindi davvero ha trovato ha fatto di tutto e di più per essere sul palco venerdì con voi assolutamente e poi fortunatamente noi condividiamo con lei il fatto di aver avuto dei figli tranne alex che penso che colmerà presto questa sua mancanza annunciamo qui non è vero e quindi cioè siamo assolutamente solidali perché la vita di tutti i giorni va avanti ma se hai un figlio una figlia gli altri richiedono da te che tu sia sempre presente sul pezzo quando invece hai un sacco di cose da fare e questo è un problema che riguarda moltissimo anche le donne peraltro a cui viene richiesta sempre la freschezza la bellezza l'istantaneità e ci sono dei momenti della vita di una donna in cui invece avresti bisogno che il mondo giri per te invece di te girare per il mondo ragazzi concludiamo in maniera quasi marzulliana quale domanda ancora non vi hanno fatto alla quale vorreste dare invece una risposta perché ci tenete volete dei grissini ci sono ci sono allora già prendeteli e così noi vi salutiamo grazie perturbazione grazie mille grazie a voi